La protesta antirigore non si ferma in Spagna, mentre il governo annuncia misure strutturali e meno austerità. In diverse regioni, insegnanti, studenti e genitori hanno manifestato contro i tagli all'istruzione. L'esecutivo di centrodestra, presentando il programma di stabilità, ha ammesso che saranno necessari due anni in più, fino al 2016, per far rientrare il deficit sotto la soglia del 3%. Il PIL nel 2013 diminuirà oltre il previsto, ma nel 2014 l'economia tornerà a crescere. Lo sforzo consolidato nel 2012, dice la vice-premier, adesso ci permette di affrontare un panorama di riforme che sarà maggiormente caratterizzato da riforme strutturali, piuttosto che da misure di aggiustamento. Non aumenteremo le grandi tasse, quella sui redditi e sul valore aggiunto, e inoltre, quanto fatto nel 2012, ci permette di dare un nuovo impulso alle riforme strutturali che sono fondamentali per la creazione di posti di lavoro. Un messaggio ottimista che stride con il sentimento della popolazione, stufa delle misure di austerità, e che giovedì era tornata in piazza, nello stesso giorno in cui erano stati diffusi i dati sulla disoccupazione, oltre 6 milioni senza lavoro. Grazie 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 Grazie